Caro Presidente due volte, Giorgio Napolitano, quest'anno noi non chiederemo agli italiani di spegnere la tv, quest'anno noi chiederemo a lei di non fare nessun tipo di discorso, non se ne abbia male, ma è che ci siamo rotti i coglioni, in fede Mauro Merlino, un disoccupato non lo stai, non lo stai, non lo stai.